Siamo nell'ala nord del Museo di Capodimonte dove c'è la mostra dedicata a Vincenzo Gentri. Noi come inviati di Positano Universo siamo qui per raccogliere e rendicontarvi con foto, video, immagini e dirette questa mostra spettacolare. Gemito ci interessa particolarmente da vicino perché ha frequentato e conosce bene la penisola sorrentina. E' stato più estate ospiti del Conte Lavia all'Annunziata di Massalupenze. Il Conte Lavia che lo incontra in tarda età in una racconto descrizione quasi diario parla di questo ospite in casa sua di cui però non riesce a instaurare alcun dialogo perché c'è la presenza della figlia di genito che lo guida e lo accompagna, siamo nella fase finale della sua vita, e perché Farfuglia si è già guadagnato di per sé l'etichetta del pazzo. Ma vediamo questo grande artista. Il 1852, il 17 luglio, è deposto nella ruota degli esposti dell'Annunziata di Napoli. Questo grande ospedale, questo grandissimo orfanatrofio, attivo e funzionante fino a qualche decennio, lo riceve in 1852. A 16 anni mette su la sua prima opera. Il giocatore in bronzo. Dove, quali sono le caratteristiche di questo maestro scultore che recepisce, accompagna i sentimenti ottocenteschi di questo pensiero romantico, di questa scuola di Posillico che ama dipingere dal vero. E dal vero ritroviamo anche la realtà in tanti suoi capolocchi. Compia un viaggio a Parigi nell'arco della sua vita, incontra idee, luoghi e personaggi, ne fa tesoro e adesso ci vogliamo la mostra.